Musica Bilancio seconda variazione, 53 milioni alla sanità, il Consiglio regionale riprogramma gli investimenti sul 2022, aumentato il budget per i servizi sanitari. Un manifesto contro i linguaggi d'odio, il documento sottoscritto dal Presidente del Consiglio Mazzeo nel corso del convegno svoltosi al Cinema La Compagnia. Buonasera, ben ritrovati a Monitor Consiglio. Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza la seconda variazione al bilancio di previsione 2021-2023. L'atto è stato illustrato in aula dal Presidente della Commissione competente, Giacomo Bugliani. Sono stati riprogrammati e spostati sull'anno 2022 una serie di investimenti per complessivi 124 milioni di euro. 53 milioni saranno destinati alla sanità. Sentiamo le interviste. Una manovra che è stata adottata all'insegna della prudenza, ma nella volontà di dare sostegno ad alcuni settori strategici della nostra Regione. Innanzitutto una misura che si caratterizza per una contrazione molto forte dell'autorizzazione all'indebitamento. Questo perché ci sono una serie di finanziamenti previsti per il 2021 che sono stati dislocati nelle annualità successive. C'è da dire però che una grossa fetta di questa misura in realtà è caratterizzata da rimodulazioni. Ci sono molti interventi che avrebbero dovuto essere realizzati nel 2021 e che vengono spostati con i relativi finanziamenti nelle annualità 2022-2023. Questo soprattutto in relazione al ritardo nei cronoprogrammi di tutta una serie di interventi che avrebbero dovuto essere realizzati da altri enti diversi dalla Regione Toscana. Ci sono però delle misure effettivamente innovative da un punto di vista finanziario e in particolar modo ricordiamo 53 milioni di euro che vengono destinati alle aziende sanitarie e sono finalizzati al rilancio delle politiche di investimento delle aziende sanitarie e quasi 9 milioni di euro che vengono destinati al settore dello spettacolo, un settore che dalla pandemia è stato pesantemente alterato e che ha bisogno di un sostegno effettivo da parte delle istituzioni pubbliche. C'è anche una cifra consistente 3 milioni e mezzo di euro nell'annualità 2022-2023 che andrà a sostegno degli enti locali per la manutenzione e la ristrutturazione degli immobili confiscati alla criminalità organizzata. Un ultimo aspetto che mi preme evidenziare di questa manovra finanziaria è il fatto che c'è un consistente accantonamento al fondo di riserva di risorse che sono destinate ad evitare le possibili perdite del bilancio del sistema sanitario regionale. Questo perché sappiamo tutti che le stime che si danno al 31 dicembre di quest'anno con riferimento al fondo sanitario sono stime che possono far registrare una perdita e quindi prudenzialmente la Regione Toscana in attesa di opportune determinazioni da parte del Governo ha deciso di accantonare una cifra consistente proprio per evitare che si registri una perdita nel bilancio del sistema sanitario regionale. La Lega vota convintamente contro questa variazione di bilancio da un lato perché riguarda tutta una serie di rimodulazioni per il 2022 di mancata realizzazione di opere infrastrutturali e la nostra Toscana paga un gap infrastrutturale notevole occorre aprire una riflessione congiunta con maggioranza e opposizione sul tema delle infrastrutture perché i soldi ci sono a volte manca i tempi di realizzazione la chiarezza appunto sulla programmazione questo ci sta decisamente colpendo come Regione Toscana dal punto di vista competitivo dall'altro perché non ci convince tutta una serie di operazioni che sono state fatte recentemente dalla Regione Toscana questa discussione inevitabilmente si è collegata con quella sul buco di bilancio della sanità per dire una delle disposizioni si è cercato di caricare sul bilancio del Consiglio diciamo della giunta regionale il debito in termini di ammortamento di 53 milioni del sistema sanitario quindi uno sgravio ma la situazione non è assolutamente chiara noi chiediamo che Gianni sia presente invece è continuamente assente sia in Commissione e anche oggi in Aula io fino adesso non l'ho sinceramente visto quindi è necessario che ci sia più chiarezza più coraggio perché il momento è veramente difficile noi faremo di tutto per cercare di evitare aumento di tasse e peggioramento di servizi sociosanitari però vogliamo un confronto continuo con il Governatore che allo stato attuale manca è una variazione di bilancio molto particolare perché è una variazione di bilancio che sposta 76 milioni e mezzo di investimenti previsti nel 2021 al 2022 per recuperarne circa 36 che vengono destinati alla sanità altri che vengono destinati alla cultura altri al sociale ma il fatto grave a mio modo di vedere molto grave è che nei 76 milioni e mezzo che vengono sottratti nel 2021 agli investimenti previsti in Toscana vi sono investimenti sulle infrastrutture una su tutte la FIPILI sul trasporto ferroviario regionale vengono sottratti soldi 25 milioni di euro destinati al trasporto ferroviario regionale i treni regionali toscani viaggiano e si muovono in condizioni di precarietà assoluta tutti i giorni ci sono stazioni basta andare la mattina a fare un giro delle stazioni toscane per vedere pendolari che attendono il passaggio del treno anche 40 minuti treni che viaggiano in condizioni di sovraffollamento folle autobus extraurbani che viaggiano ben al di sopra dell'80% della capienza prevista dalla normativa attuale e è un settore questo che si può permettere di vedersi sottrarre 25 milioni di euro le infrastrutture la Firenze-Pisa-Livorno è una struttura forse che si può permettere di vedersi sottrarre dei soldi nel 2021 per essere destinati nei trienni o avvenire e poi l'ultimo permettetemi un altro passaggio il mantra mondiale della sinistra soprattutto della sinistra toscana che ogni giorno ci ripete il mantra della transazione ecologica le immagini di Greta Thunberg osannata come l'eroina dell'ambientalismo del terzo millennio la regione toscana oggi taglia 8 milioni di euro 8 milioni di euro alla transazione ecologica e all'efficientamento energetico 8 milioni di euro che erano previsti per l'efficientamento energetico del 2021 rimandati al prossimo triennio quindi o il mantra serve solo in conferenza stampa o evidentemente c'è qualcosa c'è un cortocircuito che non torna la variazione di bilancio cade in un momento molto complesso dal punto di vista finanziario per la regione toscana per il grave buco di bilancio legato alla sanità che abbiamo ma di fatto non ci si aspettava che questa variazione potesse risolvere problemi così grandi ma neanche che come abbiamo visto troppe volte si riducesse semplicemente a piccoli favori potrebbero essere letti così sul territorio legati a interessi del singolo consigliere piuttosto che dell'amicizia con qualche sindaco invece che qualcosa di più ampio di fatto vengono sostenute alcune alcune istanze sicuramente condivisibili ma niente di più ci si riduce soltanto a piccoli interventi che mancano di una visione di più ampio respiro a una programmazione che di fatto è quello che avviene ogni volta che ci sono delle variazioni al bilancio la cosa che più ci preoccupa è che ci sono una serie numerosa di rimodulazioni delle spese che ci fanno capire che c'è un problema di capacità di spesa di programmazione di realizzazione di cronoprogrammi in molti progetti e questo è un problema che interessa gli enti locali e che probabilmente ci dovrebbe interessare in un'ottica di coordinamento tra tutti gli enti locali e il governo ma soprattutto della capacità della regione di riuscire a fare una cabina di regia su questo il nostro è stato un voto positivo una variazione di bilancio che ha confermato quello che stiamo dicendo negli ultimi mesi no all'aumento delle tasse serviva a fare un'allocazione corretta delle risorse che attualmente sono a disposizione della regione quindi aver liberato oltre 70 milioni di euro consente di mettere in sicurezza i fondi della sanità continuare a dare servizi erogare e dare risposte rispetto alla battaglia del covid non gravare sui cittadini era una battaglia politica che noi abbiamo portato avanti abbiamo vinto questa sfida che serviva per non aumentare nuove tasse ma soprattutto per trovare una risposta corretta alle esigenze del sistema sanitario e anche una collocazione corretta essendo ormai a novembre delle risorse a nostra disposizione quindi siamo stati convinti che questa sia stata una battaglia giusta nel frattempo abbiamo fatto prendere un impegno al Consiglio regionale rispetto agli stanziamenti sulle scuole rispetto agli interventi necessari urgenti a causa dell'incremento dei prezzi che molte realtà hanno quando vanno a realizzare nuovi interventi edilizi abbiamo presentato un emendamento in merito abbiamo accettato di ricondividerlo da qui la sessione di bilancio per dare una risposta organica a tutta la Toscana Cambiamo argomento il Presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo è tra i sottoscrittori del Manifesto per la comunicazione non ostile un progetto sociale di contrasto ai linguaggi d'odio e discriminanti il manifesto è stato sottoscritto nel corso del convegno la Toscana che non odia svoltosi al teatro la compagnia in occasione della festa della Toscana sentiamo innanzitutto è bellissimo vedere tutti questi ragazzi queste ragazze oggi noi vogliamo fare un passaggio di testimone un passaggio di testimone che è quello dei valori della nostra regione si parte dall'abolizione della pena di morte nel 1786 e si dice noi vogliamo restare all'avanguardia nel tema dei diritti i bulli di oggi sulla rete potranno essere i violenti di domani come si fa a fermare tutto questo si fa creando una cultura diffusa parlando con le ragazze ragazzi chiedendo che lo facciano nelle loro case e mandando a loro un messaggio forte non siate indifferenti non giratevi mai dall'altra parte spesso vi capita che un vostro amico minacci violenti usi linguaggi d'odio verso un suo compagno di classe denunciatelo abbiate la forza di raccontare quello che accade perché chi subisce violenza fa fatica a farlo e allora la Toscana deve mandare questo messaggio lo deve fare con grande forza sapendo qual è la parte giusta della storia da cui stare io mi fido molto delle nuove generazioni io credo che siano più avanti di noi nella capacità di leggere il presente ed il futuro e attraverso le loro lenti voglio costruire la Toscana del domani una Toscana che continua a essere aperta accogliente inclusiva io lo dico a chi non mi conosce mi segue da casa io non sono nato in Toscana ho scelto la Toscana l'ho scelta perché terra di diritti perché terra aperta inclusiva e vorrei che i miei figli un giorno potessero decidere se vivere o non vivere in questa regione la più bella del mondo in base a quelle che sono le opportunità che noi gli offriamo e qui c'è questo patto che oggi andiamo a siglare e in questo patto noi vogliamo sottoscrivere un manifesto che è il manifesto per le parole non ostili la Toscana deve essere avanguardia anche su questo dobbiamo iniziare noi politici a usare il linguaggio adeguato i numeri parlano chiaro su 800.000 tweet che sono stati esaminati da inizio dell'anno a ottobre il 68% usa linguaggi d'odio non so se capite la potenza del problema e allora i linguaggi d'odio soprattutto verso le donne e molto spesso quel linguaggio d'odio si trasforma in violenza violenza fisica noi dobbiamo lavorare insieme alle ragazze e ragazzi oggi è solo l'inizio andremo nelle scuole costruiremo cultura civica lavoreremo insieme perché la Toscana resti sempre dalla parte giusta della storia il manifesto è nato cinque anni fa da un'esigenza concreta di tante persone che come me io mi amo definire solo la così un po' la mamma di questo manifesto con lei che ha parecchiato la tavola ecco ma in realtà tantissime persone con una grande sensibilità hanno detto ok proviamo a vivere meglio la rete perché iniziavano i primi episodi di hate speech di fake news di cyberbullismo eccetera allora cosa abbiamo fatto abbiamo cominciato a scambiarci delle idee sono nati dei principi abbiamo condiviso questi primi principi con la rete ci sono state migliaia di collaborazioni e di suggerimenti e così a febbraio di cinque anni fa ormai è nato il manifesto della comunicazione non ostile cos'è? sono dieci semplici principi di stile dieci suggerimenti per aiutarci a vivere meglio quella che ormai possiamo definire la nostra nuova stanza ognuno di noi nella propria vita ha la stanza del digitale dico io che siamo più piccoli o che magari siamo anche noi più grandi ecco ciascuno di noi deve fare i conti con il mondo online allora quella stanza ha delle sue regole quella stanza va conosciuta e ormai va anche abitata però per abitare quel mondo ci vogliono educazione ci vuole cultura e non è sottointeso tutto questo allora è giusto lavorare con i più piccoli ma anche con noi adulti dico io proprio per capire quale può essere il modo migliore per abitare questo mondo e sapendolo allora si va incontro anche a una comunicazione che è migliore una delle premesse di parole ostile è proprio che le relazioni sono il cuore della nostra vita ecco che tutto questo passi attraverso il mondo online non è scontato e le parole sono importanti perché quelle parole possono ferire le parole possono essere pietre pietre per costruire dei muri o pietre per costruire dei ponti allora sta a noi la sensibilità a questo tema fa sì che possa davvero cambiare qualcosa allora io oggi sono particolarmente felice perché questa regione la regione toscana è la prima in assoluto insomma in Italia a firmare il manifesto della comunicazione non ostile ed è un segnale forte ci credo è una grande responsabilità perché questo ecco farà sì che mi auguro che un po' tutti alzino la soglia dell'attenzione rispetto alle parole che useranno ai modi e anche agli strumenti con cui lo faranno è un augurio ma spero tanto che sia anche ecco un bel apripista per il resto dell'Italia è tutto per questo appuntamento con Monitor Consiglio vi ringrazio per l'attenzione vi auguro una buona serata Grazie a tutti Grazie a tutti